Hi guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, sono in portenza per San Francisco e vi porterò con me. Per i nuovi iscritti, benvenuti nel canale di Chiari Lady Boss. Arrivata a San Francisco, sto aspettando papà con i 35 ragazzi. Si sta bene, è caldo, sono in shorts. Attendo, attendo con ansia. Questo per farvi capire, questo è un viaggio di piacere lavoro, seguirò per una settimana 35 ragazzi che vengono per studiare inglese. Quindi abbiamo organizzato il corso d'inglese con il residence e un sacco di attività al pomeriggio. Loro staranno qua due settimane, io li seguirò una settimana. Nel frattempo andrò a un matrimonio domani di una coppia che non conosco, ma sono stata invitata da un amico che ho conosciuto in Thailandia quasi quattro anni fa. E poi dovrò anche incontrare anche amici qua a San Francisco, quindi si prospetta una settimana molto interessante e piena. Io sono troppo felice, troppo troppo felice, troppo felice. Quando viaggio in generale, San Francisco l'adoro. Chi è che c'è adesso stato di voi? Siamo a residence, io sto consegnando le chiavi ma non trovo la stanza 419. Trovata. Le chiavi, consegna chiavi. Sono solo io. E anche la telecamera. Dai, è c'è niente. No, è accesa, però non ti riprendo. Happy Sunday, ragazzi. Secondo giorno, questo è il Labor Day Weekend. Io sto aspettando Eddie che mi sta venendo a prendere e andiamo su a Sonoma Valley per il matrimonio. Non vedo l'ora, sono troppo contenta. Lui mi è venuto a prendere e lei ha deciso di andare a un giro. Ciao, buddy. Welcome to San Francisco. Welcome to San Francisco. Yeah. Andiamo al mio donut preferito di San Francisco. Guardate, c'è la vida. Il box è troppo figo. Questo ciurro pressante è buonissimo. C'ha questa cremina che non so cosa sia ma è il top. Quedi, stiamo aspettando la sposa. Ready? Chin chin. As we begin today's celebration, I'd like to ask then, who presents this woman to be married to this man? So, Lee and Nick, let these rings serve as a reminder of the feelings that you have in your hearts at this very moment. Matrimonio, sono Macountry e mi sta registrando. C'è appena stata la cerimonia che è stata proprio là. Tra poco c'è la cena, io sono al tavolo numero 5 e il 5 in questo periodo mi sta perseguitando come numero. Cheers. 5, we're at table 5. Cheers. 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 Allora, questo matrimonio è un burger, io ho preso un po' di pizza, ingelata e polvo. Allora, questo matrimonio è stato il mio primo matrimonio americano, diciamo che la differenza principale è stato il fatto che essendo un matrimonio cristiano e non cattolico non c'era il prete, la cerimonia è durata tipo mezz'ora, la sposa aveva otto damigelli e lo sposa aveva otto damigelli se non sbaglio, non so come si dice in italiano, poi non c'è servizio al tavolo per la cena, c'erano ovviamente tavoli con tutti i nomi assegnati e mentre aspettavamo potevamo bere quello che volevamo, eravamo comunque a Sonoma e quindi una delle vallate più importanti per il vino, abbiamo avuto un sacco di vino, il rosè era buonissimo, anche il bianco. Quando sono arrivati gli sposi, sia le damigelle che i damigelli sono entrati ballando, ognuno presentato con una canzone diversa, comunque ve l'ho fatto vedere nei video, qualche sketch. dopo di che a ogni tavolo veniva dato il via per andare a prendere il buffet, il buffet era solamente un'inzalata, un po' di pollo e la pizza. Questa è stata la cena di matrimonio. Allora, Eddie dice che la pizza era buona, la pizza non era buona, mi dispiace, ma non era buona. Eddie non ha mai provato la pizza italiana, quindi partiamo da questo presupposto che lui non sa realmente quali sia il gusto della pizza italiana, inoltre anche tra noi italiani abbiamo un gusto diverso, un palazzo diverso, magari qualcuno piace la pizza più fina, qualcuno più alta, qualcuno più morbida, qualcuno più croccante. Dopodiché ci sono stati balli e quando sono arrivate le 10 puntuali, hanno finito la musica, non c'è stato verso di far suonare il DJ ancora di più. One more song, one more song e non ce l'ha proprio messa. Quindi abbiamo finito alle 10 puntuali, il matrimonio è iniziato alle 4 pomeriggio, è stato un bellissimo matrimonio, sono stata contenta anche perché questa location dove io volevo andare tantissimo nella Sonoma Valley, che non ero mai stata, c'è lo stellatissimo, cosa penso che mai vedrò a New York. Adesso stiamo guidando, andiamo a fare colazione americana. Dopodiché si va verso San Francisco, ma prima ci fermiamo ad uno dei miei punti preferiti, dove fare le foto al Golden Gate. Oggi colazione americana, ho fatto un hash brown con l'omelette, dentro ci ho messo un po' di spinaci, pomodoro e cipolle. Invece Eddie ti ha preso... cipolle. 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 Cosa sarebbe? Penso che c'è un po' di carne, è un piatto messicano, certo? Allora voglio provare anche i pancake qui in California, a vedere se sono più buoni di quelli di New York. Ne ho ordinato uno solo perché ovviamente ho mangiato troppa roba. Come penso tutti o quasi tutte sappiate, in California la marijuana è trovato un dispenser che la vende. Io voglio vedere assolutamente com'è, solo che non ci faranno filmare dentro. Vi faccio vedere solo il fuori. Il posto è questo qua. Guardate che macchina rosa. Oh no, in realtà, quello è il posto. E' questo, certo? Allora. Siamo arrivati vicino al viewpoint del Golden Gate. C'è un vento allucinante e c'è stato un sacco di traffico, quindi abbiamo dovuto perché già era un po' più indietro. Non so quante volte ho visto Golden Gate, ma è sempre un piacere soprattutto per la nebbia, quindi lo rende ancora più bello, speciale. Primo giorno di scuola, sono andata anch'io. Salve. Salve. YouTube. Salve, sì, c'è YouTube. Ciao, ciao. Abbiamo fatto una presentazione. Adesso foto e poi siete liberi, ragazzi. Cosa fate oggi? Eh, shopping. Striscia, la vanno a strisciare. Striscia, che te passa? Siamo dentro il Mala di San Francisco. Ciao. Questo è un gruppo. Ciao. Ciao. Noi assolutamente nessuno lamentela, quindi oggi pomeriggio ci vedremo. Ciao. 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 Ci sono molto, no? si chiama Lilac. Abbiamo fatto Osage, adesso stiamo andando a Balmy. Sto entrando in un market locale. Candies, wine, frilli pieni di roba da bere. Mi sa che di là c'erano le caramelle, le patatine. Mi sono comprata le bugles. Mangiavo quando ero piccola, non mi ricordo come si chiamano la versione italiana. Papà, come si chiama la versione italiana di queste? Ancora papà si ricorda. Allora, come ve lo faccio vedere, sono questi buonissimi, croccanti. Se vi viene in mente il nome scrivetemelo, che io non me lo ricordo. In questo momento proprio non mi vi viene. Ho ordinato un burrito, ho pagato 7 dollari e 49, in questo posto messicano trovato così a Mission. Chissà com'è rispetto a quello di New York, non me lo ricordo, perché qui ho sempre, in California ho sempre provato i tacos. Per adesso mi piace più quello di New York. a quest'alle è fighissima, c'è molto Mexico vibe, è piena di garage, un locale chiuso, un signore che vende pezzi di bici e aggiusta le bici, cactus, fiori, entrate di appartamenti. è stranissima, ma veramente unica. Ragazzi, vide alternativo, è diventato un portapiante. Da Mission abbiamo preso l'autobus, stiamo andando all'appuntamento con i ragazzi a Union Square, come New York, non c'è una Union Square. I ragazzi praticamente la mattina vanno a scuola. Ci hanno il corso d'inglese fino alle 11.75, poi li abbiamo lasciati liberi per pranzo. Adesso li prendiamo, andiamo a fare un giro insieme a Castro e Ashbury. Nooo! 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 Dentro al museo GLBT, che è gratuito ogni primo mercoledì del mese. Cos'è? Una foto di gay barra trans che festeggiano. Ciao a Ashbury! C'è un evento allucinante, ci siamo divisi. Io faccio un giro per i negozi e questo qua si chiama Held Over e c'ero venuta sicuro quando ero passata a San Francisco l'ultima volta, sì, assolutamente è lui. E' un negozio vintage, che mi ricordo mi aveva piaciuto veramente tanto. Allora ovviamente non con questo outfit, ma cosa ne pensate? Fuxio dietro, con questa fantasia davanti. Non potevo uscire senza busta. Ho comprato una gonna di jeans lunga e quel windbreaker top. Ho speso un totale di 70 dollari, vi consiglio questo posto se vi piace il vintage. Questo posto è assurdo, indovinate di cosa mi sono innamorata? Di questa roba che si mette in testa. Per me mi starebbe un sacco bene. Comunque la tipa che ci ha accolto ha detto che le cose che vendono in questo negozio sono state fatte da più di 140 artisti da tutto il mondo, che sono loro amici e parenti. Allora, non so se sapete che a San Francisco ci sono diversi mezzi di trasporto dalla metropolitana, al BART, al cable car, tram, all'autobus, i piedi, la bici oppure il taxi, Uber, Lyft e quant'altro. E c'è una carta chiamata Clipper Card, Muni è il sistema. Potete farla per tre giorni illimitata, sette giorni o più di una settimana e anche un mese. E ha ovviamente dei costi in base alla durata. Quindi calcolate bene quanti giorni sarete a San Francisco e come volete fare gli spostamenti perché la Clipper Card sicuramente sarà conveniente se avrete bisogno di usare questi metri di trasporto. Buongiorno, ultimo mio giorno a San Francisco. Sto andando a prendere il cable car da Lombard, vado giù verso il quartiere finanziario di San Francisco e da lì prenderò il BART o treno che mi porta a Oakland perché vado allo stadio per la prima volta a vedere una partita di baseball che sono anni che dico vado a vedere il baseball, vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere i Yankees. Alla fine tra una cosa e un'altra non ero mai riuscita e ci vado qui a San Francisco. La cosa più assurda che voi direte come è possibile. Sono stata invitata da una persona che non conosco come il matrimonio, praticamente un carissimo amico tedesco mi ha detto devi assolutamente conoscere un mio amico turco che vive a San Francisco. Vi metto in contatto, ci ha messo in contatto e questo suo amico mi ha invitato alla partita con tutti i colleghi. E tra l'altro ci abbiamo pure il pranzo gratis proprio allo stadio. A San Francisco funziona come a New York, chi lascia i libri per strada vuol dire che li sta regalando come questi e voi li potete prendere, qua ce ne sono quattro, sia a New York che a San Francisco se vedete i libri per strada vuol dire che le persone li stanno donando. Allora siamo un po' lontani ma vedete quell'isoletta là? E' l'isola appunto dove c'è la prigione di Alcatraz, si possono prenotare le visite con anticipo un po' come la corona della Stato di libertà se lo sbaglio anche Alcatraz ha bisogno di essere prenotata con molti mesi in anticipo. Eccola qua, Alcatraz. Sei volte a San Francisco mai visitata Alcatraz. Forse io sono l'anti cose turistiche per eccellenza. Guarda che bello! Sono sopra Lombard, Lombard Street. Questa è la strada più azigozago crooked del mondo, Lombard. Eccola la mia cable car finalmente! Praticamente sono sola. 8 di mattina non c'è nessuno, due ragazzi davanti e io. Le cable car sono una cosa tipicissima di San Francisco che si possono prendere. Ogni giorno passano dalle 6 di mattina a mezzanotte e se non avete il muni, che è quella carta di cui vi parlavo, il costo di ogni tratto è di 7 dollari. Se non la prendete di mattina presto, rischiate di fare delle file interminabili perché ormai è diventata una cosa molto 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 turistica. In questo momento non ci sono turisti, ci sono solo locali. Se volete evitare le file e non perdere tempo, ma allo stesso tempo fare un giro nella cable car, dovete assolutamente partire la mattina presto. Alle 6 penso non ci sia proprio nessuno. Adesso che sono le 8 e tre quarti sono arrivata al capolinea qua giù nel quartiere finanziario. C'erano diversi turisti, ma mai tanti quanti, metà fine mattinata e ovviamente durante tutta la giornata. Allora il BART è un po' confusionario, nel senso che stanno cambiando le regole e già dal 3 settembre alla stazione di Powell dove l'ho preso io per venire a Oakland hanno deciso che puoi usare il BART solo con la clipper card, altrimenti devi pagare un dollaro in più. e ogni clipper card, che sono queste card qua, costano 3 dollari e tu puoi ricaricare. Puoi ricaricare in modo illimitato come può essere tipo la metro card a New York o puoi ricaricare con dei soldi in base alle tratte di cui hai bisogno. Questo ve lo dico in caso avrete bisogno di usare il BART una volta a San Francisco. Sono arrivata ad Oakland, sto aspettando Mamet. Siamo quasi arrivati allo stadio con Mamet, sta bevendo il suo caffè e questo è lo stadio dove siamo per entrare. Ho appena scoperto che c'ho tutto il cibo gratis che voglio, guardate qua. Sono molto felice di essere stata la partita ma è troppo troppo boring per me. è bellissimo il baseball. Ok, abbiamo Cani Umani a San Francisco che sta imitando lui, quindi lui imita lui. Siamo alle Painted Ladies e ho deciso di intervistare qualche ragazza del gruppo. Ciao! Allora cosa mi volete dire di questa esperienza? San Francisco è bellissima! Tutti qua! Tutti, tutti! Anche le salite? No! Quelle no! Anche le distanze? No! Vabbè ma se c'è il bus, comunque il bus è sempre in Italia. Il bus che c'è! Il bus è in Italia! Esatto! Ma invece della scuola cosa mi dite? Che figa! Legge Kajla! State imparando inglese? Sì! C'è anche i cinesi che non sanno pronunciare le parole! Come dicono i tuoi nomi i cinesi? Tipo Chiara diventa o Chara o Cara. Esatto! Ma invece qualche parola nuova che avete imparato? O qualche espressione? E come dicono nell'autobus? Figure it out! Ok! Sì! Clean the door! Stare! Sì! Sì! E... Risa la carta! Risa la carta! Che mangiamo per cena? Riso! Riso scondito! Riso scondito! Riso è il migliore! Riso è il pollo! Riso è il pollo! Due grandissime fan! Sono appena scioccata! Appena adesso! Perché c'ho due fan! Due! Che me l'hanno detto adesso! Loro sono il gruppo! In realtà hanno visto tutti i miei video YouTube! Preferito! Perché sono diventata New Yorkese! Esatto! Perché vi piace quello? Ehm... C'ha senso! C'ha senso! Gli altri invece non ci hanno più senso! Ehm... C'è roba interessanti! Interessanti! C'è... Vi consiglio di seguirla! Oh... Guardate i video! Grazie raghe! Veramente! Vabbè, appena scoperto Mi non so raccontare le robe Ma vai, che lo sai No, lo so, serio, non so Perché te eri presente, quindi puoi dar più dettagli di me C'è i posti per sedie, segui per i vecchi, così, sulla destra Allora, tipo, entra sta donna nera, tanto grossa Un po' abbondante E ti fa sedie uno per sedile E poi c'era una vecchia, sempre di colore, assedente nel quarto posto Allora, certo, dietro di loro monta su una vecchia che si mette a sede sopra il fiolo Quanto si mette al fiolo? La vecchia, però, la signora anziana, detta vecchia, di che nazionalità era? Eh, no, questa me manca Non era cinese? Sì, forse sì, cinese, coreana Vabbè, coreana, coreana Esatto Certo, la madre si è cominciata a incazzare Ha cominciato a dare ginocchiate per farla Oh Cioè, aveva metà culo Se il fiolo Metà tre palo No, no, lì si accorgeva Il posto è mio, il posto è mio Il pastone E non stava di cucina Perché era tutto che muoveva Colazione dell'ultimo giorno Non l'ho mai fatta, quindi è ora che vi faccio vedere cosa c'è qua al restaurant Hush brown Wasapazzade E wasapazzade Pancake E french toast Devo salutare anche Baidi che lavora qua al Monroo Buongiorno Buongiorno Ecco io, Baidi Io? What? No No What do you wanna say? My name is Baidi Oh, mi chiamo Mi chiamo Baidi And I'm 28 Ho 28 anni Anni Ho 28 anni Vi voglio fare vedere quanto è alto I wanna show them how tall you are Si That's how tall you are Ok Ciao 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 Dan Arrivata all'aeroporto Stanca Ma felice Sia Di aver conosciuto gente nuova E Stava proprio iniziando il divertimento ho dovuto lasciare i ragazzi So contentissima di essere stata con papà Purtroppo l'ho dovuto lasciare quindi questa è stata la parte più triste Ovviamente super happy di aver fatto esperienza nuova E avrei visto posti nuovi Sto aspettando il volo Dovrei imbarcarmi tra una mezz'ora Intanto vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me durante il video Spero ovviamente che vi sia piaciuto Aspetto i vostri pollici e un sacco di commenti Fatemi sapere cosa ne pensate di San Francisco e di questa esperienza L'ho fatto con i 35 anconetani Anzi quando sarà il turno vostro Last but not least Dato che vi siete dichiarate Aspetto i commenti di Michela e Beatrice Per oggi è tutto Da Chiari Ladyboss e San Francisco Bye guys